Salve a tutti, da Arpapi, vi volevo far vedere che a casa del Papi ci sono fenomeni di fantasmi. Guardate come si muovono i teli, guarda che roba, è spaventoso, si muovono i teli. Fantasmi, ci sono i fantasmi, vediamo un po' chi sono i fantasmi, allora, vediamo un pochettino, mettiamo la mano, aia, 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 che dolore, che dolore, che dolore, vediamo un pochettino quali sono i fantasmi presenti sotto questo telo, guardate chi c'è stava là sotto, capito? Chi c'è stava là sotto e ce ne sta ancora un'altra, guarda, perché loro sono delle piccole pazze. Guarda come si muovono, aspetta, vediamo chi è quest'altra, giusto per curiosità, tanto ormai abbiamo fatto tutto, abbiamo scoperto che non ci sono i fantasmi, ma ci sono le mostriciattole, questa qui, chi è? Eccola qua, vedi? Le sorelline, Maya e Sissi, stavano tutte quante là sotto, ci hanno fatto mettere paura, sta cattivona che non sei altra, piccolina, saluto a tutti, buona serata dai fantasmini!